Bentornati su Nova Mamazzo e bentornati nella rubrica Retro Dilan, che quest'anno potrebbe anche avere un sottotitolo come Il Dilan che non ho letto, e sì, perché quest'anno io parlerò di tutti i vecchi numeri di Dilan che io non ho ancora letto e che leggo per la prima volta per poterne parlare con voi. Oggi parliamo del numero 26, dopo mezzanotte. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano Dilan Dog e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero, eccetera, eccetera, eccetera. E iscrivetevi anche agli altri messi, hoci altra con Instagram e Twitch per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio oltre a YouTube. Che dire, dopo mezzanotte, numero 26 di Dilan Dog, uscito dopo Morgana, uno dei numeri storici di Dilan Dog, già Morgana era molto particolare, molto surrealista, molto metanarrativa o metatestuale. Dopo mezzanotte non si spinge così oltre, però ha dei momenti non-sense davvero interessanti. Tra l'altro, momenti non-sense che non credo nemmeno siano stati proprio, perdonatemi, dati dalla vellità artistica dell'autore di Tiziano Sclavi, ma sembra proprio che non sapessero, non sapesse cosa scrivere. Sembra proprio che si sia portato e protratto avanti per 96 pagine proprio perché doveva consegnare una storia e davvero, questa storia va avanti per un continuo equivoco. È una commedia, una tragedia degli equivoci, se vogliamo vederla in questo modo, ma non sembra davvero che ci sia un guizzo, un filo comune che porta dall'inizio alla fine in questa storia. E la cosa assurda è che le storie migliori di Tiziano Sclavi, o quantomeno le storie apprezzate dai più di Tiziano Sclavi, sono proprio quelle fatte in questo modo. E quindi, se fosse stato qualunque altro artista questa storia, non sarebbe piaciuta a nessuno. Sicuramente se una storia del genere l'avrebbero messa con uno pseudonimo a nome di qualcun altro e l'avessero piazzata nelle storie di oggi, tutti avrebbero detto, ma che è sta merda? Se non ricordo male, negli ultimi due video di D-Landog ho detto, vabbè, ma questo non è D-Landog, perché la storia è così e così e così. Anche qua ci sono alcune avvisaglie che ti potrebbero far dire la storia, non è assolutamente interessante. Però, cazzarola, questo è D-Landog. Cioè questa sua insensatezza a volte, questo suo stile è proprio tipico di D-Landog, proprio perché è stato Tiziano Sclavi a imprimere nei numeri più storici questo stile a volte davvero surrealista. Ho anche pensato che Sclavi di tutta questa sceneggiatura avesse solo come soggetto la poesia proprio che riguarda la mezzanotte, la notte, che apre e chiude il numero, di cui ci sono anche alcuni versi qua e là all'interno della storia, però principalmente apre e chiude il numero. Io credo che sia partito da questa, da questa sua poesia, per poi appunto espandersi in una storia, che fondamentalmente vede D-Land in prima persona, che anche qui non è una cosa che succede spesso, ma quando succede e c'è coinvolto anche il surrealismo, è molto molto bello vedere D-Land alle prese con tutto ciò, D-Land è coinvolto appunto in una serie di eventi, una serie di sfortunati eventi, che appunto sembrano a non portare a nulla, sembra non ci sia nulla di correlato, e forse non c'è qualcosa di correlato, ma lungo la strada comunque apprendiamo un paio di lezioni che erano, come si dice, era giusto puntualizzare nell'epoca in cui è uscito il numero, negli anni Ottanta, ed è comunque, sono comunque tuttora attuali. La storia si apre con D-Land che ritorna da un appuntamento galante con una certa Susan, una classica femme del mese che appunto non ce n'è neanche dato sapere molto su di lei, perché non è il fulcro della storia, quantomeno non all'inizio. Lui torna da una serata appunto con questa Susan e resta chiuso fuori casa, banalmente, proprio un espediente narrativo semplicissimo, cerca in tutti i modi di entrare, però Graucio non risponde, non sappiamo nulla di Graucio. Graucio totalmente assente in questa storia, esattamente come nella storia dell'ultimo D-Land della serie regolare che ho recensito, però ecco qua fondamentalmente questa sua assenza non l'ho sentita forzata magari come nel numero della serie regolare. Nella serie regolare quando Graucio è assente lo vedo proprio come un non saperlo gestire, qua invece è più coerente alla storia perché è tutta incentrata su D-Land. Dylan cerca in tutti i modi di entrare in casa, tra l'altro vi ricordo che il campanello di Dylan Dog è un urlo disumano, straziante e che quindi sveglia a maggior ragione tutto il vicinato e così pensa di tornare a casa di Susan, di chiederle ospitalità per la notte. Prova a telefonare da una cabina telefonica, vi ricordo che siamo negli anni 80, che è occupata da un senza tetto, quindi ha una conversazione molto carina con un senza tetto, quindi non lo tratta mai dall'alto verso il basso, tranne quando tra 6 e 6 lo definisce barbone, ma perché in quel periodo era la parola che comunemente veniva usata, quindi non c'è nulla di dispregiativo. Scopre appunto che dando l'elemosina a questo senza tetto non ha gli spicci per poter telefonare, ha solo una moneta, scusate, solo una banconota da 20 sterline in saccoce, allora decide di prendere un taxi. Alla guida di questo taxi c'è un fantastico lord inglese, una persona davvero di altri tempi, molto gentile, che si rivedrà anche alla fine della storia. Ecco, è tutto circondato, questo numero, da tutti questi personaggi, tutte queste particolarità molto strane che più che trovarsi in una storia narrativa coerente, si trovano di più in una storia di vita reale, in una nottata di vita reale. La serie di sfortunati eventi continua e Dylan perde la banconota da 20 sterline che vola fuori dal taxi. Fortunatamente questo tassista è davvero elegante e è l'unico forse che comprende la situazione e lo lascia andare. Tutto il resto è una serie di sfighe che si mettono contro a Dylan Dog, per esempio il fatto che appunto questa banconota da 20 sterline finisce in un bidone che stava bruciando. Dylan Dog ha un incontro con una prostituta che si stava scaldando a questo bidone e che crede che Dylan volesse i suoi servizi per 20 sterline e litigano. Tra l'altro questa prostituta nomina Bree Daniels, che avevamo già visto nel numero 19 e che vedremo più avanti nel numero 88, quindi una citazione a uno dei numeri più significativi di Dylan Dog. Tra mille peripezie Dylan arriva a casa di Susan e scopre che Susan è sposata. Tra l'altro non si capisce subito, potrebbe sembrare che appunto Dylan avesse scambiato gli appartamenti, invece no, era proprio il marito di Susan che apre la porta a Dylan Dog e quindi si scopre che Susan è uscita con Dylan essendo sposata. Dylan non lo sapeva e anche successivamente quando Susan raggiunge Dylan, dopo che il suo marito è stato ucciso da qualcuno di misterioso, qualcuno che noi non vediamo a schermo fino alla fine, a foglio scusate, fino alla fine, scopriamo che Susan è davvero volubile ma non nel senso amoroso, romantico, sessuale del termine, ma sembra proprio che sia volubile di testa, non sembra completamente a posto come persona, sembra davvero una squilibrata e mano a mano che la storia va avanti, tutte le tavole che comprendono la presenza di Susan mostrano come questa donna non sia semplicemente una delle tante donne di sclavi disegnate in maniera molto caratteristica, molto stupidina, molto leggera, ma è una vera e propria psicopatica. Io ci ho trovato molto della moralità dei vampiri del Buffyverso, quindi sembra proprio che non abbia nessuna morale, nessuna remora, nessuna anima quando si arriva soprattutto nel finale di questa storia. Mano a mano che Dylan cerca appunto di ritornare a casa sua a piedi perché ormai non ha più le 20 sterline, il tassista l'ha portato a casa di Susan e se n'è andato, incrocia diciamo il suo cammino in questa città deserta e desolata, come stranamente è Londra in questa strana notte, incrocia un po' il suo cammino con questo serial killer appunto che va in giro con un'ascia ad ammazzare le sue vittime e incrocia nel senso che non incrocia fisicamente il serial killer, ma le loro strade si incrociano un paio di volte, tant'è che Scotland Yard crede che il serial killer sia appunto Dylan Dogg. La scena più interessante di questo numero è secondo me l'incontro con un'altra brava persona all'interno di questa storia, che è una persona che Dylan incontra nella discoteca dove l'ha portata Susan, che è un ragazzotto che lo ospita e si scopre appunto che è un tossicodipendente, fondamentalmente lo vediamo proprio scaldarsi una siringa, e si autodefinisce un mostro, lui conosce Dylan Dogg perché caccia i mostri e lui si definisce un mostro, non si ama per quello che sta facendo a se stesso, lui appunto si droga e si prostituisce per pagarsi le dosi. E in una nota a margine sembrava quasi che volesse pagare Dylan Dogg per farsi ammazzare dal momento che lui è un mostro. Un paio di tavole davvero toccanti che, devo dire, rialzano molto l'asticella di questo numero. Tra l'altro questo ragazzo condivide l'appartamento con la prostituta che abbiamo visto all'inizio e che quando vede Dylan Dogg dice ah cavoli non sapevo che fossi omosessuale. Dylan lì per lì resta un pochino sconcertato, quasi offeso, e il nostro ragazzo qui dice ah e dov'è tutto il Dylan Liberal che c'era fino a qualche minuto fa? Guarda che non ti ha mica offeso. E Dylan fa ah touche effettivamente non mi ha offeso. E devo dire che leggere una cosa del genere su una tavola degli anni 80 su un argomento che tutt'oggi può offendere alcuni maschi etero basic toccati nella loro mascolinità è davvero un numero all'avanguardia, se così vogliamo chiamarlo. Il nonsense di questa storia raggiunge due livelli abbastanza alti verso il terzo atto della storia. Uno è giustificato dal fatto che Dylan per sbaglio assume della cocaina bevendola in una lattina di coca cola e quindi c'è una scena molto alla grande Lebonski in cui la realtà si piega diciamo. Un'altra invece è il classico nonsense di Laniato in cui fa il ritorno sulle tavole il tassista, aiuta Dylan Dog dandogli una corsa gratis, ma a un certo punto mentre racconta dei suoi aneddoti della guerra vediamo che l'auto, in quello che sembra essere un sogno di Dylan Dog, naviga per acque sconosciute come se fosse un veliero in mezzo al mare e vediamo questo autista che viene trascinato fuori da degli zombie che sbucano dall'acqua. Però il sogno è molto più reale di quanto non sembra perché a Piccadilly Circus il tassista si è fermato e pare essere proprio annegato nella fontana del Piccadilly Circus, dalla quale appunto vediamo sbucare comunque le teste degli zombie che nel sogno di Dylan lo avevano trascinato fuori dall'auto. Quindi di tutto il nonsense che c'è in questa storia che a me non piace di solito è così tanto, questa scena in particolare mi è piaciuta molto. Ci sono ancora un paio di equivoci che secondo me davvero servono solo per allungare il brodo per arrivare a 96 pagine. Tra questi c'è anche la comparsa, non so se è la prima apparizione del cane Botolo, il randaggio di Londra che è amico di Dylan Dog che ogni tanto appunto fa breccia nelle tavole di Dylan Dog, va e viene, non è proprio il cane di Dylan Dog ma ogni tanto appare. E poi Dylan viene finalmente arrestato dal poliziotto che lo stava pedinando, che era convinto che fosse lui l'assassino con l'ascia e per poi venire a sua volta, il poliziotto viene a sua volta ucciso dal vero assassino con l'ascia che finalmente ritrova Dylan e lo rapisce, vuole che gli porti l'ascia che per caso è finita nelle mani di Dylan. Vediamo che questo assassino alla fine in discoteca ha incontrato Susan che è diventata la sua nuova partner in crime, la sua nuova Eva Kent e qua vediamo proprio i più alti livelli di bassezza, scusate il gioco di parole, di Susan che si esalta come se fosse sotto l'effetto di qualche droga psichedelica, anche lei si esalta alle feratezze commesse dal suo attuale ragazzo incontrato quella sera, quindi più omicidi ha commesso questo serial killer più Susan si esalta della cosa come una fangirl in preda al delirio. Delirio che non piace molto neanche all'assassino tant'è che uccide persino Susan. Quando appunto dopo che ha ucciso Susan, Dylan e questo serial killer si apprestano alla colluttazione finale torna in scena il cane che io chiamo Botolo, presumo che appunto sarà Botolo per il resto della serie di Landog e aiuta un po' Dylan a sopraffare questo assassino e l'opera si conclude con l'alba e la poesia finale di Tiziano Sclavi. Appunto è un numero davvero che non mi aspettavo e devo dire che tra quelli che devo ancora leggere è quello che ha scatenato più di tutti la mia curiosità proprio perché il titolo è molto suggestivo dopo mezzanotte, però è quello che mi ha lasciato anche un attimino così un pochino di sasso, non mi ha pienamente soddisfatto però appunto ha dei punti molto alti che sono tipicamente di Dylan Dog e quindi gli si perdona tutto. L'ultima cosa che volevo dire appunto la storia di Sclavi, i disegni sono di Casertano, Casertano disegna Dylan Dog in il 90% delle tavole, lo disegna davvero davvero bene, le espressioni di Dylan Dog, le angolazioni sono spettacolari, ci sono giusto un paio di tavole dove Dylan Dog è in questa prospettiva e non è facile disegnare una persona con il mento abbastanza, come si dice, appuntito in questa prospettiva, quindi su quelle tavole non è perfetto ma per il resto è disegnato davvero bene, mi è piaciuto molto la rappresentazione di Dylan Dog in questo numero. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che il RetroTilan sarà il mese prossimo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.